Le guardie ecozofile dell'Associazione Ampana di Cava dei Tirreni hanno eseguito un sopralluogo a Ponte Cagnano-Faiano in una traversa di via dello Statuto nei pressi del Consorzio di Bonifica Destrasele. Durante i controlli è stata ritrovata una notevole quantità di lastre di amianto, di cui diverse sfaldate, nonché materiale di risulta e mantelli di asfalto. Una zona non vigilata dove il danno ambientale, secondo il responsabile dell'Ampana Vincenzo Senatore, può crescere giornalmente. L'Ampana, contestualmente, ha provveduto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria, nonché al sindaco Giuseppe Lanzara, per le urgenti misure da adottare al fine di ripristinare lo stato dei luoghi.